Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato le nozze d'argento. La coppia si è giurata amore eterno L11 luglio 1999 e ieri sera ha celebrato i 25 anni di matrimonio con una cena fuori e i loro figli. Il volto TV 51enne e il cronista sportivo 57enne hanno condiviso una foto della serata mentre soffiano sulle candeline sulla torta. Formano il numero 25 con le mani, sorridendo davanti al dolce in un ristorante di Milano. La mattina dopo, Fabio ha fatto una tenera dedica alla sua metà, pubblicando un video romantico sui social. Fabio ha ricordato il primo appuntamento con Benedetta, quando ha finto di perdere un aereo per cenare con lei. Ha menzionato il loro matrimonio avventuroso e la nascita dei loro tre figli, Matilde, Eleonora e Diego. Fabio ha anche ricordato il loro primo viaggio insieme negli Stati Uniti, un'esperienza indimenticabile. Ha concluso dicendo Mi sembra ieri che ti ho detto ti amo, e te lo ridico oggi, ti amo.